Buon pomeriggio, bentornati alla vita indiretta che tra poco inizia. Abbiamo tanti argomenti importanti di cui parlarvi. Sì, 17 e 4 minuti, oggi abbiamo veramente moltissimo, perché il caso di Saronno, Cristina, è incredibile. Sì, la storia dei due amanti di Saronno, ora emerge il fatto che il marito della donna, lei accusata di averlo avvelenato, fosse già stato da un medico due anni prima di morire e il medico l'aveva messo in guardia, dicendo un caso così strano non l'ho mai visto, non prenda più farmaci dai familiari. In quel momento è entrata la moglie e lui ha detto io di lei, di mia moglie, mi fido ciecamente e due anni dopo è morto. E lei è accusata di averlo portato, di questo omicidio. Il caso Ragusa, l'abbiamo seguito a lungo, venerdì, insomma le testimonianze, sicuramente secondo l'accusa coincidono, in particolare la testimonianza di una donna che tra l'altro è ipoacusica, sente poco, ma è lei che tiene insieme tutte le testimonianze e lei perché è credibile? Perché quella notte è stata in farmacia agli scontrini e tutto torna, è passata sotto casa di Roberta Ragusa e quindi tiene insieme tutte le testimonianze su quello che è accaduto quella notte. Non so se lo valutate più importante e cioè il fatto che l'oglie avrebbe detto una bugia dicendo che quella sera era andata a dormire quando, secondo i tabulati, e lì non è un fatto di testimonianze, invece era al telefono con Sara Calgiolaio. Questo ha un peso diverso? Potrebbe essere l'elemento scatenante dell'omicidio perché Roberta Ragusa avrebbe individuato proprio in quella sera un comportamento di cui lei aveva già avuto sensazione, ovvero il marito la tradiva con Sara Calgiolaio che in effetti era una sua amica. E quindi quello potrebbe essere tutto ciò che sta dietro al movente dell'omicidio. Perché? Perché l'oglie potrebbe essere stato all'interno di una situazione emotiva talmente forte che lo ha portato ad avere proprio una sorta di imbuto psicologico. Un imbuto psicologico che avrebbe potuto anche in qualche modo far premeditare questo omicidio. Ecco che quella sera, quell'elemento scatenante, avrebbe potuto far avere questa reazione così forte nei confronti della moglie che avrebbe appunto portato all'omicidio e poi alla distruzione del cadavere. Un indizio, un attimo, abbiamo capito questa parte. C'è un altro indizio che, vorremmo sapere da voi se secondo voi è un indizio piccolo o un indizio importante. Allora, cosa succede? Che Gozzi, che è stato definito il super testimone come succede in questi casi, dice il giorno dopo la scomparsa di Roberta è venuto, è venuto Antonio Logli, solo a casa sua, mi ha portato una fotografia. Ma quella fotografia, dice Gozzi, qui vedete, è una fotografia di Roberta Ragusa che non corrispondeva a quello che era Roberta Ragusa in quel momento. secondo l'accusa, ha mandato quella foto per non farla riconoscere. Possiamo vedere questa, perché noi invece abbiamo la foto più realistica di Roberta. Ecco, lo vedete, la nostra religione è sistemata in un'unica immagine. A destra c'è la foto che Antonio Logli mostra a Gozzi. A sinistra, Roberta Ragusa invece, come era poco prima della scomparsa. Ecco, secondo l'accusa, è voluto, avrebbe stato voluto portare una foto poco corrispondente. Come l'aveva pensato? Ma Antonio Logli non ha mai partecipato neanche alle ricerche della moglie e soprattutto è andato quella mattina solo a casa di Gozzi. E quindi, ecco che l'accusa si chiede, perché ha chiesto solo a Gozzi e alla moglie se avesse visto Roberta Ragusa quella notte? Allora forse aveva qualcosa da nascondere o forse anche lui si era reso conto che era stato avvistato da Gozzi e quindi voleva in qualche modo evitare che lui potesse raccontarlo agli inquirenti. Ora, motivo per il quale lui non ha partecipato alle ricerche della moglie pone un grande punto interrogativo di fronte a quello che è stato il suo comportamento nell'immediatezza della scomparsa. Ci torniamo tra pochissimo, Cristina.